Siamo pagina e parliamo ora di una nuova iniziativa per fornire servizi sanitari di alto livello specialistico in un'area a cavallo tra la Valle del Tammaro e il Matese. A San Giuliano del Sannio è stato inaugurato il centro medico polispecialistico SIDA. Ha seguito per noi la cerimonia Giuseppe Carriera che ha intervistato il direttore sanitario di questo nuovo centro, il dottor Savino Verardi, per lungo tempo primario del reparto della divisione di chirurgia sia al Ferdinando Veneziale di Isernia che al Cardarelli di Campobasso. Vediamo. Essere al servizio dei pazienti offrendo nello stesso luogo la presenza di specialisti delle più varie branche per la diagnosi e la cura di numerose patologie che possono essere trattate semplicemente in ambulatorio. Con questa filosofia è stato inaugurato a San Giuliano del Sannio il centro polispecialistico SIDA. L'iniziativa è frutto della passione e delle competenze di un team di giovani e affermati professionisti. Direttore sanitario, una firma di grande esperienza nel mondo della chirurgia, il dottor Savino Berardi. Tutto è nato dal fatto che una giovane e brillante odontoiatra, la dottoressa Simona De Benedittis, ha aperto uno studio odontoiatrico in questa sede e si è innamorata del posto e ha trasmesso questo suo sentimento a una serie di medici specialisti in varie branche che hanno sposato la sua idea di creare un centro polispecialistico che poi con molto coraggio ha realizzato insieme al dottor Davide Berardi. Ma quali sono le principali patologie che possono trovare risposta in un centro di questo tipo? Dalla piccola chirurgia all'aspetto poi diagnostico, sia per le neoplasie, mediante ecografie, endoscopie digestive assistite dall'anestesista, all'ergologia, alla psicologia, al sostegno psicologico, naturalmente esasperando il concetto di privacy, alla fisioterapia, alla riabilitazione in ogni settore da quell'ortopedico, alla cardiologia, certamente ne avrò dimenticati molti, ma insomma per garantire un largo spettro di potenziali utenti. Il centro polispecialistico è per scelta in uno dei tanti paesi del nostro Molise, a pochi chilometri da Campobasso ma in posizione centrale rispetto a un territorio molto vasto, dai confini con la Campania fino al Matese. Una scelta etica e di prossimità rispetto ai pazienti. Premetto che io ho lavorato per oltre 45 anni nella sanità pubblica negli ospedali di tutta Italia ma adesso i tempi sono cambiati perché la sanità pubblica in tutta la nazione è orientata verso l'assistenza dei pazienti in acuzie o comunque che presentano patologie bisognose di ricovero in ospedale. A questo punto creare una struttura snella, professionalmente qualificata, che garantisce per la presenza delle figure professionali idonee e soprattutto per un aspetto che cito per ultimo, ma ultimo non è, mi riferisco a quello economico, credo che una struttura che azzera i tempi di attesa, favorisce le alte prestazioni e è economicamente sostenibile sia tipica dei nostri tempi.